Ciao ragazzi, vi ritrovate, torniamo a parlare di bonsai, per i bonsai torniamo sul mio carpino, andamolo a vedere a 360 gradi per iniziare, vediamo come sta, come non sta, facciamo in modo anche di fare un discorso per quanto riguarda il valore delle piante, quindi come capire quanto può valere un bonsai, no? Primo per non prendersi le solite inculate, perché tanto i neofiti sono il target ideale di questi venditori, no? Andiamo a vedere la pianta, poi ritorniamo sul discorso. In pianta non si capisce niente adesso, ancora c'è la vegetazione, questo è un carpino della madonna, ok? Posso dirlo tranquillamente, appena perderà le foglie vi farò vedere il suo potenziale, farò vedere i rami, tutto, la conicità, tutto il lavoro svolto negli anni, ok? Perché questa è una pianta che sto costruendo da zero, ok? Questo era un ciocco, non aveva niente, questa è stata fatta l'impostazione primaria, bla bla bla, tutto, pugnete, via dicendo, e quindi a breve vi farò vedere anche quest'anno il risultato di quello che ho combinato durante questi anni, ok? Una vera bomba, posso garantirvi una vera bomba, farò una bella potatura, è un carpino nero, chi dice no? Un carpino bianco, un carpino blu coreano, è inglese, non rompeti le scatole, è un carpino nero, ok? Tranquillamente. Allora torniamo sul discorso, anzi continuiamo sulla questione carpino, siccome ci sono un po' di persone che dicono che i carpini sono piante difficili da coltivare, eh ma no perché a un certo punto l'apice lo vai a perdere perché si allunga, inizia a seccare in natura, i carpini seccano, vengono giù. Cerchiamo di capire una questione fondamentale, le piante in natura seccano per i cazzi loro, cioè per i loro motivi, per i problemi che ci sono in natura, ok? In baso bonsai è una questione totalmente differente, primo perché abbiamo una pianta che va coltivata, no? Quindi gli diamo concime, acqua, teniamo a bada, sotto controllo, facciamo delle potature, così andiamo a bilanciare in vigore tutti i rami. Secondo, come farà mai una pianta a scattare i rami in apice, Cristo? Come cazzo farà che la parte più forte di lei, no? Ha più gemme, ha tutto, va su e per natura è portata ad andare su, come cazzo farà a perdere i rami a un certo punto per magia in apice? Potete capire che c'è qualcosa che non va. Allora la questione qual è? È vero, a volte i carpini hanno questo problema semplicemente perché la gente non sa coltivare il carpino, ok? Se trattate un carpino come un olmo, con le stesse tempistiche di potatura e via dicendo, ammazzate la pianta, ok? Questo perché, come sappiamo, gli olmi, gli aceri tridenti sono piante che lavorano più veloci, no? Rispetto a un carpino, quindi per ovvi motivi ogni volta che c'è una potatura è pronta già a rispondere e a maturare e a rispondere e a maturare. Quindi magari fa una buttata in più rispetto magari a una pianta del genere che ha i suoi tempi. Quindi se è una pianta così faremo tre potature durante la stagione vegetativa, ok? Poi chi non capisce un cazzo ne fa una perché non gli dà da mangiare, diciamo, no? Perché, boh, sai, deve la... tutte cazzate, no? Invece un acero, un olmo magari metti a mano sei volte, sette, otto volte, dipende, no? Sono piante differenti. Quindi se la pianta inizia a scartare rami in apice vuol dire che voi avete rotto i coglioni veramente tanto queste piante, tagliando, tagliando, facendo, a un certo punto c'è un ritiro di linfa, quindi si parla di ritiro di linfa, quindi non c'è più tiraggio perché andate voi a compromettere la vegetazione, a un certo punto vi ritrovate una pianta che non funziona più, magari torna anche indietro. Quindi se sbagliate a dare da mangiare, se sbagliate ad annaffiare, se sbagliate a fare le potature, ovviamente la pianta ha dei problemi. La colpa di chi è? Della pianta? No. Ok? Tornando a noi, continuiamo a parlare di valore, valore commerciale, valore intrinseco, valore di mercato poi, perché ovviamente non si può solo parlare del valore che ha la pianta, perché se poi alla fine la volete vendere, ovviamente ci deve essere un mercato di riferimento a chi vi va a pagare la pianta. Quindi se non c'è il mercato di riferimento, se la vostra pianta vale 50.000 euro, se non trovate la persona che vi dà 50.000 euro, la vostra pianta non vale 50.000 euro sul mercato. Ok? Questa è la verità. Tornando al discorso neofiti, ricevo tutti i giorni un sacco di foto, ah voglio comprare la pianta, ma dimmi te, io la prendo, è bellissima, della gran merda tutti i giorni, ok? Della roba che non ha un senso, non ha un filo logico, piante con mille difetti, mi dispiace, magari molto spesso il ragazzo che inizia a fare bonsai con i difetti li vede come pregi, perché dice, vabbè c'ha un bel buco. Crucifoglia ragazzi, se non hanno buchi è molto molto meglio, anche se non hanno cicatrici, molto 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 meglio, ok? Partiamo dal presupposto che ci sono dei parametri che vi vengono presentati con l'intento di dare valore aggiuntivo a una pianta che valore non ne ha, quindi l'età. Ok? Quando il venditore vi dice, ah ma questa pianta ha 60 anni, eh? Cosa significa? Niente, perché nessuno sa l'età di una pianta del genere, che è molto spesso raccolta in natura, oppure comprata di importazione da cinesi, che cazzo ne so, e molto spesso l'età viene inventata di sana pianta, ok? Secondo, l'età della pianta è un valore relativo perché noi dobbiamo comprare piante belle, piante che hanno delle caratteristiche, che hanno un'impostazione fatta bene, ma soprattutto delle caratteristiche intrinseche, quindi un piede, una corteccia, un tronco su cui poi dopo andare a sviluppare il progetto. E sarà il progetto in sé che darà poi il valore ulteriore alla pianta, non il fatto che ce l'avete da 10 anni, o da 15, o da 20 anni, o da 2 anni. Se una pianta che ce l'ho da un anno riesco a portarla al doppio del valore, è semplicemente il valore che sono riuscito a dargli io, grazie alle mie mani, alle mie tecniche di coltivazione, no? Quindi il mercato vi va a pagare poi ciò che ha di fronte, ok? Non le teorie o il fatto che questo è un carpino nero, invece un carpino bianco costa di più, un carpino coreano costa di più ancora, quello giapponese costa magari di meno, sono tutte cazzate senza senso, ok? Quindi la pianta che è impostata bene, che ha un piede della madonna, che è bella, ok? Che è bella ragazzi, questo è il segreto, avere una pianta bella, piante belle hanno un valore ulteriore. Quindi qual è il problema? Primo, terzo qua, ormai ragazzi in commercio, nei negozi fisici si trova veramente poca roba di valore, ok? Non per denigrare o per dire che tutto fa cagare. Però quello che vedete oggi con un occhio, fra dieci anni, la stessa cosa vi farà schifo, ok? Starete veramente lontano da queste cose qui. Per carità ci sono anche dei vivai che vendono delle piante bellissime, ovviamente costano un pozzo di soldi. Questo non perché il vivaiista vuole fregarvi, anche se a volte c'è un ricarico esagerato, ma semplicemente perché sono piante comprate e quindi bisogna comunque sia ricaricare poi dopo sul prezzo. Quindi ovviamente in giro le piante costano tanto perché il vivaiista le ha comprate, quindi le rivende e deve caricarci su. Da un buon saista magari uno che costruisce le piante le pagate un po' di meno perché semplicemente magari sono piante raccolte in natura a zero euro. Quindi pagate semplicemente il lavoro, la mano d'opera della persona che le ha costruite. Un'ultima cosa, scusate, scusate. Tornando sul discorso costruzione, rami, cerchiamo di capire una cosa fondamentale per quanto riguarda la potatura. Allora ci sono due modi di agire. Il primo è potatura per costruire, quindi per migliorare il materiale, e il secondo è potatura per riempire e per vendere una pianta. Quindi in base al target, in base a quello che poi vogliamo fare, quindi in un negozio ovviamente vi preparano la pianta in modo che sia bella subito. Un buon saista invece smonta di continuo, soprattutto le caducifoglie, perché ho bisogno di ripartire da dietro per conicizzare. Questo perché avete visto il mio video sull'acero, ho fatto la potatura, video molto bello, quando ho spento la telecamera ho continuato a tagliare come una bestia e ho tolto praticamente il 70, quasi 80% della vegetazione, semplicemente perché ho bisogno di conicizzare i nuovi rami che devono nascere. Quindi quando devo vendere una pianta non posso permettermi di fare un lavoro del genere. Questo perché chi compra una pianta, soprattutto neofiti, non sanno valutare un albero in base poi alle caratteristiche future di quello che poi ne verrà fuori. Quindi se io domani taglio di netto tutto un primario perché ho bisogno di ripartire dietro, creare due rami più vicino al tronco per dare un valore aggiuntivo però fra 3-4 anni, la persona che magari vuole comprare questa pianta qui non lo capisce, non lo vede e dice questa qui è una pianta che è tutta da fare. Sti cazzi, se avete un ramo primario grosso così, quello è un valore aggiunto e quindi avere una ripartenza già che era accordata al tronco vuol dire aver comprato una pianta su cui è stato fatto un lavoro di 4-5 anni di bestemmie. Ok? Questa è la verità. Quindi attenzione, quando andate invece nei vivai che vi vendono una pianta che è bella, tutta verde, piena, ragazzi loro devono vendere le piante, ve le devono presentare, ve le devono abbellire. È ovvio che punteranno sempre a tenere più vegetazione, piuttosto che andarla a farla saltare per farla ripartire da dietro, perché in inverno è proprio il momento nel quale poi si vedono i rami, un ragazzo che va in un negozio e vede una pianta senza rami, va glielo spiegare, no ho fatto una putatura di rientro, ho tolto tutto perché devo ripartire per aumentare poi il valore fra 4-5 anni, è una cosa che non esiste, no? Quindi per i propri motivi, in base a quello che bisogna fare, si punta più alla bellezza, come quando, che ne so, portiamo la pianta in mostra, ovviamente se questa pianta qui la voglio portare in mostra a fine anno, non potrò fare un lavoro di costruzione, quindi di rientro della putatura, no? Quindi ripeto, in base a quello che dobbiamo fare, si agirà sulla pianta in due modi, io sulle mie piante punto sempre a costruire, anche a discapito, che ne so, di un valore aggiunto per quanto riguarda la vendita, in quel momento lì non me ne frega un cazzo, quando vendo una delle mie piante spiego in maniera semplice che questo è stato fatto un lavoro che ha un valore che è aggiuntivo, ok? Quindi sul crocifoglio soprattutto la cosa da fare all'inizio è puntare sul diametro, ok? Quindi quando vedete le mie piante che sono grandi così, l'anno dopo sono la metà, ho fatto quello che doveva andare fatto, che deve essere fatto, ho fatto quello che andava fatto, ok? Cristo, e punto e basta. Quindi quando le persone vi dicono, ha sbagliato la pianta, adesso è più piccola, non hanno capito che in realtà io ho una visione che va avanti di 4-5 anni rispetto alla loro e questo è il motivo per il quale in giro vedete dei gran video sul bonsai con gente che ha il ciclamino e dicono adesso io, e non fanno niente perché l'anno dopo è sempre un ciclamino, no? Un'ultima cosa prima di chiudere, smettete di comprare mondezza, ok? Cioè smettete di fare il ragionamento, amo io adesso ho 300 euro da spendere, non ne ho mille, quindi compro una pianta da 300, che poi per carità quando la comprate da 300 molto spesso è una pianta da 30 euro, questa è la verità, ok? Cercate di fare budget, cioè è veramente la vostra salvezza fare budget e spendere tanto dopo, ovviamente un acquisto sensato, no? Perché molto spesso piante da 1000 euro, poi sono piante da 300, ok? Perché è sempre questo il giochino. Cercate di fare budget una volta all'anno, oppure una volta ogni due anni, così il budget è ancora più alto, tirate fuori i coglioni, fate un acquisto, spendendo tanto, prendetevi le responsabilità che bisogna prendersi, così iniziate a fare bonsai, seriamente. Quando avete piantine di merda tra le mani, fate sempre le cose un po' così per provare, ah, adesso vedo, quest'anno me lo prendo per capire, poi l'anno dopo uguale, ve lo prendete ancora per capire perché non avete capito un cazzo. Prendete una pianta valida, se non siete capaci di metterci in mano, iniziate intanto a coltivare e a far vegetare, no? Se avete bisogno, ovviamente poi dopo, come ho fatto con altri miei clienti, ci guarderemo insieme qui in laboratorio, volendo anche a domicilio, ok? Ovviamente non prendo la macchina e vado in Polonia, ok? Ci vediamo nei prossimi video, concimate, concimate e concimate perché adesso è il periodo nel quale la pianta deve caricarsi, quindi Imperator, Nanotech, Krypton, Biodoped e poi giù a manetta, anche in primavera, perché poi si riparte, però bisogna costruire anche per l'estate, perché poi in estate bisogna costruire anche per arrivare poi all'autunno, ok? Questo è il segreto per andare avanti nelle cose, non fermarsi mai. Che vi diciamo, no, adesso in periodo in cui ci si ferma, sti gran cazzi, come avete visto, i pini, gli aceri, piante che hanno perso le foglie o che stanno scartando degli aghi, come vedete hanno già le gemme più gonfie di prima. Questo cosa vuol dire? in inverno sicuramente c'è della stasi vegetativa, cioè la pianta non butta fuori, però la pianta fa i suoi processi, continua a fare i suoi processi che noi non sappiamo, per carità qualcuno lo sa perché studia tutti i giorni i suoi libri, tutte ste cazzate di contorno, no? Poi non sa mettere mano alla pianta. Comunque la pianta fa, esegue dei processi che noi non conosciamo per poi prepararsi alla ripartenza. Questo cosa vuol dire? E ci fermiamo a dare da mangiare perché vediamo la pianta che ferma, non capiamo che magari invece lei ha bisogno di mangiare perché sta facendo altre cose, no? Cioè le persone ragazzi stanno sedute sul divano, magari fanno qualcos'altro che noi non vediamo, magari pensare, no? Quindi sono tutte cose che noi non vediamo che però la pianta fa, ok? A bomba, fate il carico adesso, spedizione gratuita, se fate un ordine da 100 euro, siete a posto tutto l'anno, zero problemi, se avete dubbi mi scrivete tranquillamente, non fatevi problemi, giù a bomba e smettete di fare sempre il ragionamento al contrario, ok? Qui bisogna fare vegetare e rientrare e raddoppiare, punto, fine. Queste sono le tre cose che vanno fatte, tutto il resto, filature, sbranature, robe strane, gente che prende l'accendino e inizia a bruciare, io non ho capito che cazzo dovete fare su queste piante, se le dovete inculare, cioè dovete coltivarle e costruirle, due cose in croce, ok? Punto e basta, per avere un risultato. Ciao a tutti, mettete un mi piace a questi video, la prima volta che lo chiedo, condividete, fate come cazzo vi pare, tanto la firma non me ne frega neanche niente. Ciao a tutti ragazzi!